Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo gli ultimissimi aggiornamenti sulla crisi di governo. È il giorno delle consultazioni di Mario Draghi, ha cominciato con i partiti minori e terminerà sabato con la Lega. La forte presa di posizioni di Di Maio prima e di Conte poi hanno rafforzato le probabilità di riuscita del tentativo dell'ex presidente della Banca Centrale Europea. Il premier in carica ha chiarito la sua posizione con una inusuale conferenza stampa all'aperto davanti Palazzo Chigi. Anche Silvio Berlusconi ha dato il suo sostegno determinando la spaccatura nel centrodestra che non andrà più unito alle consultazioni. Lo ha confermato lo stesso Salvini. Prende così sempre più corpo l'ipotesi di un governo guidato da Draghi e sostenuto dalla cosiddetta maggioranza Ursula con un ventaglio che va dai Cinque Stelle a Forza Italia. L'ex presidente della Banca Centrale Europea è salito al Quirinale e ha ricevuto dal capo dello Stato l'incarico formale per la formazione del nuovo governo. Intanto inizia il toto ministri, avanza l'ipotesi che restino nell'esecutivo guidato da Mario Draghi, i ministri uscenti Lamorgese, Boccia e Franceschini e potrebbe esserci un posto da ministro degli esteri o vicepremier anche per Giuseppe Conte. Berlusconi guiderà la delegazione di Forza Italia. Le consultazioni segnano anche il rientro di persone, proprio di Berlusconi, sulla scena politica. Il Cavaliere guiderà infatti la delegazione di Forza Italia che domani incontrerà Mario Draghi. Lo ha fatto sapere il vicepresidente del partito Antonio Tajani. Del resto fu lui a incaricarlo, dice Tajani, come governatore alla Banca Centrale Europea. Tra loro c'è un'antica conoscenza e assonanza sulle politiche economiche seguite quando era alla guida della Banca Centrale Europea. Emma Bonino dice nasce una politica meno sgangherata. Anche da più Europa arriva l'appoggio al nascente governo Draghi. La formazione guidata da Emma Bonino, alla pari quella di Carlo Calenda, era stata tra le prime ad auspicare lo sbarco dell'ex presidente della BCE a Palazzo Chigi. E dice così è la nascita di un'altra politica meno sgangherata e più attenta ai problemi del Paese. Questa impresa è una novità vera per il Paese, ha detto Emma Bonino. Con il presidente Draghi ha aggiunto abbiamo parlato di temi prioritari come la questione sanitaria e le vaccinazioni e il piano di ripresa e resilienza. Inoltre abbiamo parlato della questione femminile. Intanto l'aumento delle chance di nascita di un governo Draghi incoraggia i mercati, in particolare quello dei titoli di Stato. Lo spread tra i BTP italiani e i Bon tedeschi continua la sua discesa e atterra a quota 100. Una valutazione così bassa non veniva raggiunta dal dicembre del 2015. C'è anche il sì di Carlo Calenda con azione. Al termine della legislatura più pazza degli ultimi anni, la più trasformista e incoerente, a cui più Europa e azione non hanno partecipato, l'unico atteggiamento responsabile è non mettere condizioni alla costruzione del governo. Il nostro sostegno è pieno e incondizionato, lo dice Carlo Calenda, leader di azione dopo le consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. L'ex ministro dello sviluppo economico è stato tra i primi ad appoggiare il mandato a Draghi e la sua formazione politica ha inaugurato le consultazioni odierne. Calenda non parla di appoggio incondizionato perché alcuni partiti stanno mettendo delle condizioni, come ad esempio Salvini dice ci possiamo anche pensare a condizione che Draghi non arrivi al 2023, quindi sia un governo che finisce prima, ma voi sapete che questo non può essere perché l'incarico è fino al 2023, o come sempre dice Salvini noi porteremo dei temi, vedremo se verranno accettati, mentre anche Beppe Grillo dà delle condizioni. Dice così il mutato atteggiamento del Movimento 5 Stelle verso il mandato conferito a Draghi. È sancito ora da Beppe Grillo che dice sì al dialogo con il presidente incaricato, ma prescrive anche una serie di condizioni che per il fondatore del Movimento sono irrinunciabili. Difesa di tutti i provvedimenti portati a casa dal governo Conte, come il reddito di cittadinanza, il decreto dignità e le norme anticorruzione, è un programma che abbia tra i punti principali il reddito universale, una imposta patrimoniale per i super ricchi, acqua pubblica, blu economy, digitalizzazione, conflitto di interessi e banca pubblica. Grillo le avrebbe indicate parlando con un gruppo di parlamentari 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle si siederà al tavolo per rispetto istituzionale e gentilezza nei confronti del presidente della Repubblica. Intanto dal Colle c'è il moderato ottimismo per le parole di Conte di questa mattina che con un banchetto improvvisato fuori da Palazzo Chigi ha fatto il suo annuncio. Il Quirinale segue con attenzione, seppur a debita distanza, l'evoluzione della situazione politica dopo l'incarico a Mario Draghi. Il presidente Sergio Mattarella ovviamente osserva il dispiegarsi delle diverse dichiarazioni che si susseguono da tutte le forze politiche. In queste ore al Colle si registra un moderato ottimismo sulla possibilità di una soluzione della crisi. Il capo dello Stato ha anche apprezzato sia il gesto che le parole pronunciate da Giuseppe Conte sull'incarico a Draghi, poco prima dell'inizio delle consultazioni del premier incaricato, alle quali il Colle non ha posto limiti temporali. Salvini comincia a sfilarsi con più decisione dallo schieramento che si appresta a sostenere Draghi. Entrando alla Camera per una riunione politica, il segretario della Lega ha detto difficile governare con chi mi ha mandato a processo. Salvini ha poi confermato che il fronte delle opposizioni si è ormai rotto. È meglio che ognuno dica liberamente quello che ha in testa. Noi non siamo costretti a fare nulla controvoglia. L'unità del centrodestra è un valore. Governiamo in 14 regioni su 20. E più tardi aggiunge Draghi scelga tra Grillo e la Lega. Insomma, non sono solo i 5 Stelle che hanno mandato a processo Salvini. Hanno votato tutti, compreso Renzi, compreso il PD, tutti tranne Forza Italia e Fratelli d'Italia. Quindi quelli che hanno mandato a processo Salvini non sono solo Grillo e il Movimento 5 Stelle, ma è gran parte del Parlamento. Draghi scelga tra Grillo e la Lega. Non so quanto Draghi voglia avere condizionato il suo mandato da Grillo, da Salvini, da Berlusconi, dal PD, dai 5 Stelle. Non so quanto Draghi possa accettare delle precondizioni. Ti diamo il sì se tu fai questo. Noi ti diamo il sì se fai questo. Quindi Draghi, per avere il sì di tutti, dovrebbe avere già un calendario di cose da fare, che sono le espressioni dei singoli partiti. Non credo che questo sia quello che vuole fare Draghi. Draghi avrà in mente delle sue prerogative, delle sue cose che vorrà fare immediatamente. Non credo che possa dar retta a tutto quello che vogliono i partiti. Dovrebbe essere un sì o un no. Volete che io governo, dice Draghi, sì o no. Intanto c'è, come vi dicevo, la possibilità di Conte che diventi vice premia. Insomma, grazie per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.